Cari papà e mamme, oggi vi presentiamo uno dei posti meravigliosi della nostra città di fermo, la biblioteca dei ragazzi. Io vi consiglio di visitarla perché è un posto meraviglioso. Un giorno con la mia scuola sono andata sul pienino che gira per la città di fermo. Siamo arrivati alla biblioteca dei ragazzi che si trova nella piazza di fermo e Raffaella si è accolto. Ci siamo presentati con l'aiuto di un bellissimo libro. Poi Raffaella ci ha raccontato la storia del lumino fatto di niente di Gianni Rodale. Finita la storia ci siamo messi subito a lavorare. Abbiamo colorato il lumino fatto di niente. Ci siamo divertiti tantissimo. Prima di nuovo via Raffaella ci ha fatto scegliere un libro da leggere. E con piacere abbiamo scogliato tutti i libri. Poi abbiamo ripreso il trenino per tornare a scuola. Quindi cittadini fermani venite tutti alla piazza di fermo e andate alla biblioteca dei ragazzi perché ci siamo divertiti. Abbiamo imparato cose nuove e quello è un posto bellissimo. Andate numerosi! Ciao!